Eccoci qui ragazzi e ragazze, siamo con... Severi Cesto Che è con il team Scalcarmi Lo vediamo ben piazzato Questo cappello, raccontacelo Diciamo che ho preso spunto da Arturo Merzario E soprattutto essendo che sono appassionato di gara Endurance da Glickenhaus Tra l'altro super apprezzato te lo dico Come sta andando da fuori in pista? Allora, siamo partiti che avevamo preso bene come sorteggio iniziale E sono stati circa ridosso della top ten Ho fatto io la partenza che è solito la fase quella più critica Perché diciamo che... E tra l'altro è stata anche un po' particolare Ecco, quello che avete visto nella quadra sono io che sono uscito fuori pista E per un contatto, peccato perché avevo recuperato fino alla P5 Poi sono rientrato in pista a P21 Avevamo recuperato tutti i suoi ultimi stinti a P13 E' buono I meccopai di squadra hanno preso bene Hanno martellato con ottimi ritmi, costanza Poi c'è anche il discorso di collaborare con l'altro piloti Con il discorso del vento che è contrario al trinio Quindi c'è bisogno di un gioco di squadra stando in scia E siamo riusciti a risalire adesso costantemente P6 e P7 in quella posizione lì Però adesso c'è un discorso che adesso nel live timing In questo momento ci sono tutti i pit spalsati C'è chi ne ha fatti 10, c'è chi ne ha fatti 8, 9 Quindi per me verso l'ultima ora di gara si riesce un po' più a capire Anche chi segue da casa la classifica reale Quanto è importante questa fase di gara a metà Anche se ci stiamo dirigendo un po' verso la fine In una gara che dura 7 ore Perché non sono gare stint Allora diciamo che adesso il livello ogni anno si alza sempre di più Quindi ogni singolo stint è come una sprint Si dà tutto dal primo giro fino all'ultimo Poi vedendo anche come si sono organizzate Come hai visto ai box Quanti team manager, quanta tecnologia e quant'altro Per seguire anche il sorteggio e questo e quant'altro Quindi diciamo che Siamo passati che i primi anni di queste gare qui Era un po' come il periodo dell'Allemans Series Dell'inizio anni 2000 Dove diciamo si diceva che era più costante E che era più affidabile A livello di meccanica Adesso qui andando negli anni Come si può vedere nei campionati Endurance Tutti i piloti spingono dal primo giro fino all'ultimo E certe volte anche dopo 7-8 ore di gara Gli stacchi sono veramente risicati Il vento vi dà fastidio particolarmente nel retilineo Ma anche in altri punti del tracciato? Allora dipende dalle fuolate Perché certe volte capita che c'è un calo drastico Come un aumento drastico I piloti più alti Perché io mi occupavo di squadra Alex Mendels che ringrazio l'Endurance In team per avercelo prestato Lui è alto 1,86 Quindi il discorso aerodinamico lui lo soffre parecchio Invece un pilota un po' più minuto Riesce a stare diciamo in scia Con una semplicità migliore rispetto a uno molto lungo Specialmente anche perché col sedile si può avere regolazioni da un certo punto Certo quindi uno è o svantaggiato o vantaggiato in base anche alla propria attenza ovviamente Tornando a te invece Per quanto riguarda il tuo percorso e i tuoi inizi nel kart Quando ti sei apprezzato a questo sport? Ho iniziato saltuariamente a 12 anni Girando con i 4 tempi o con i kart elettrici Mi sono dedicato ai kart elettrici Ho vinto anche il campionato interno A cliente kart romana di Corselice Poi ho deciso di passare alla Sony Borsiers Che stava iniziando pian piano A essere molto più conosciuto Specialmente nell'ambito 4 tempi rental E dopo da lì dal 2014 sono arrivato fino ad ora Che ho corso per sbagliati il team Ho fatto questa vita esperienza Poi faccio parte anche dell'Accademia Red Racing Marco Zicoli è il mio voce tra l'altro Marco lo conosciamo E quindi pian piano poi dopo ti fai conoscere Visiti tante piste E poi dopo da lì inizi a trovare un pochettino la tua quadra Ascolti sempre il più esperto E poi dopo quando ti canalizzi dentro Diciamo in questo ambiente qui Inizi a portare fuori dei risultati Dopo inizi a essere chiamato da sbagliati team Ma anche solamente a spot per il compasso In una gara E quindi continui sempre ad accumulare esperienza Oggi per me sono 121 gare endurance Ah, è un bel traguardo Io mi dedico solo esclusamente all'endurance Quindi l'aeroman e le sprint non fanno per me Io mi dedico solo a... Come mai? Cosa ti piace nell'endurance? L'endurance si sta molto tempo in vista A discorso anche dei viaggi che si fanno Ma soprattutto è una gara che non finisce subito al primo giro Hai tempo di recuperare Una sprint bene o male come tutti noi sappiamo Quando inizia poi il recupero è molto difficoltoso Invece con l'endurance hai modo Con la strategia e con i piloti e quant'altro Di riuscire a rimetterti di nuovo in gioco Quindi non è tutto perso In effetti come avete visto prima Sono uscito fuori pista da P21 Ma adesso cerco di stare Proviamo a stare a ridosso della top 5 E l'obiettivo della giornata vostro qual è? Ovviamente adesso correndo per lo SCAR Academy E per il n-up di piloti che abbiamo È sempre puntare podio vittoria Con il team come ti trovi? Con il team come ti trovi? Si stassiatati? Sì Abbiamo avuto un cambio di piloti Perché sono entrato per parte della metà dello scorso anno Quindi è l'ese di giugno E ci sono stati alcuni che hanno lasciato il team Ci sono stati dei nuovi piloti Per fartela breve Il più giovane A parte Alex che è in prestito Che ha soli 16 anni Io sono uno dei più vecchi Il più longevoli è a 37 Il più giovane dello SCAR Academy è a 19 Quindi abbiamo anche un allen-up molto giovane E soprattutto tutti affiatati E soprattutto anche della stessa mentalità Ok, questo è l'aspetto forse più importante Perché poi se si viaggia tutti nella stessa direzione Diventa anche più facile Ad esempio penso al team manager Che deve gestire una squadra Sì, diciamo che Cerchiamo di lavorare su tutti i difetti caratterali Di ogni singolo pilota Più prestazioni in pista E poi dopo cerchiamo di limare quant'altro Cioè l'obiettivo di un team endurance È quello di avere il pilota migliore E tra virgolette il peggiore Avere meno delta di tempo Certo Invece ti volevo chiedere Se dovessi o se avessi la possibilità Di correre in pista con un pilota Storico della Formula 1 Del rally Buttaci dentro al calderone Chi vuoi e chi sceglieresti Quello è che ho già corso con dei piloti Ho già corso anche una 24 di Iesolo Con Giovanni Lavaggi Ho avuto modo di sfidare anche Pierluigi Martini Al Misanino Diciamo che di piloti Ne ho avuto a che fare Poi Dodore Gazzoni Che non c'è mai corso assieme Ma come rivali Diciamo che poi Zippoli Tester 2009 Quindi Diciamo che Sono abbastanza soddisfatto Però se capitano altri piloti Sei pronta e disponibile Sì, sono disponibile Nessun problema L'ultima domanda Poi ti lascio Al tuo divertimento in pista E alla tua gara Ti volevo chiedere Un pregio e un tuo difetto Nuovo pilota E partiamo con l'autoanalisi No, pregio È che io bene o male Mi riesco ad adattare Qualsiasi team Avrò cambiati 8-9 team Chiunque è stato commesso È trovato abbastanza bene Un difetto È quello che è capitato Per un periodo O è capitato anche tuttora Se la gara non è tanto positiva E che penso che io Non sia all'altezza Tante volte sono un po' Non dico sfiduciato Però dico Cavolo Con quel mezzo lì Potevo rendere di più Di qua Ma grossi difetti Bene o male Non è che ne abbia tanti Su questo aspetto Perché non è che abbia degli odi Oppure dei pullem in pista Ovvio che Poi me lo dobbiamo di solito Dire più le altre persone Perché certe volte Il nostro difetto Non ce ne andiamo nemmeno con Vero anche questo Sì La famosa autoanalisi Non è un aspetto Io sono una persona Che cerca di fare un po' il sapientone Però quando capita Che sono in pista Visera chiusa Faccio il sapientone Ma fino a un certo punto Stando al limite del regolamento Ecco Forse quella È una critica Posso dire Ok Allora io ti auguro Una buona gara Un buon divertimento Soprattutto perché Siamo sempre qui per divertirsi È una competizione E l'obiettivo è quello Ci divertiamo Se siamo sempre più in alto In classifica Quindi È vero è vero Anche questo Ti ringrazio Per il tuo tempo Per la tua risparabilità Grazie a te Per avermi chiamato E poi Se capiterà Chiamare Per il tuo poste Assolutamente sì Noi siamo qui Super volentieri Grazie E sono contento Di averti con noi Grazie Grazie anche a te Grazie Ciao 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 Grazie a tutti.